Ciao, benvenuti a tutti da Goldi Unicorn Art. Grazie sempre per la vostra presenza, carissimi e carissimi. È un piacere essere di nuovo tutti insieme qui. Allora, siamo tutti pronti a scoprire che cosa sta per accadere, le novità. Oggi faccio un giro generale, anzi una croce celtica con i tarocchi. Quindi incomincio e poi vediamo dove ci portano le carte. Allora, incominciamo con la nostra croce celtica. Tagliamo. Oh, la prima carta ci parla già di ricchezza, abbondanza. Qui abbiamo un re di denari che potrebbe rappresentare anche la tua energia. Perché in questo momento voglio lasciarle un momento parlare. Non ho incominciato dicendo faccio una stesa sull'amore. Anche se poi andremo a vedere chi è e perché. Allora, comunque potrebbe essere il tuo desiderio questo di scoprire questo tesoro. Anzi, di manifestarlo perché c'è già, tu ce l'hai già questo tesoro. Quindi non devi far altro che aprire la tua cassaforte e manifestarlo al mondo e a te stessa. In questo momento hai delle buone energie, sei parecchio magica. Hai, diciamo, un particolare talento, quello di attraversare i muri. E chissà, forse questo rappresenta che stai per fare un grande passo. Cioè la manifestazione di un qualcosa che tu desideri. Una manifestazione non necessariamente materiale. Perché l'oro, in questo caso, rappresenta anche l'illuminazione. Rappresenta anche la coscienza più alta, quindi l'oro, la luce. Quindi in questo momento, secondo me, è un momento particolare. È un momento molto particolare dove tu ti rendi conto che puoi fare qualcosa per la tua situazione. Andiamo a mettere giù tutte le carte. E poi piano piano le scopriamo. Allora, vediamo. Questo è un po' il tuo passato. Ultimamente sei stata, o stato, io parlo sempre al femminile, ma sapete che vale maschile e femminile. Ultimamente tu sei stato un po' in difficoltà. Ce l'avevi un po' con qualcuno. E invece adesso, se non l'hai fatto, fallo. Perché hai anche un suggerimento contemporaneamente. Questi sono tarocchi motivazionali più che previsionali. Quindi è come se ti dicessero, ultimamente ce l'hai avuto un po' con qualcuno, ma ricordati che tu hai delle risorse tali per cui puoi cambiare le cose. E infatti, qui c'è proprio l'artigiano che crea, tu puoi realmente cambiare la tua realtà. Allora, quando ce l'hai un po' con qualcuno, che sia d'amore, che sia amicizia, che sia lavoro, che sia anche una situazione, ti dimentichi che invece tu hai il potere di cambiare le cose. E hai il potere di cambiare le cose a partire da te. E queste carte, che vengono qui inizialmente, mi fanno proprio capire e vedere che qualcosa dentro di te si sta già muovendo verso le tue risorse interiori. Vediamo questa. Vedi, se stai pensando all'amore o a un incontro, o qualcosa di bello accade, qualcosa che ha a che fare prima con te stessa, ma poi anche con gli altri. Questi altri sei tu che li devi pensare. Qui potrebbe essere qualcosa che riguarda l'amore, potrebbe essere qualcosa che riguarda la famiglia, comunque, o il lavoro. Questo riguarda senz'altro un incontro di cuore, perché i bambini rappresentano sempre il cuore, e ricordiamoci che lo spazio del cuore è sempre molto importante. Quindi è uno spazio sacro, non è come se ci fosse, c'è un'energia dentro lo spazio del cuore, dobbiamo renderci conto che c'è proprio una luce, un'energia. Ecco, quindi tu, qualsiasi cosa tu stai pensando, visto che viene in questa posizione, che rappresenta proprio il futuro della croce celtica, tu stai proprio per armonizzarti con qualcuno a cui tieni. e quindi se ce l'avevi con questo qualcuno, sappi che qui ci sarà pace. Se ce l'avevi con una situazione, sappi che questa situazione si risolve. E poi, cosa ti dice il matto? Che le cose possono essere anche molto veloci, ma anche molto inaspettate. Quindi la risoluzione di quello che tu ti aspetti non è esattamente quello che tu ti immagini, è qualcosa di diverso. Di solito l'universo è sempre molto più generoso di quello che noi pensiamo. Quindi, se noi accettiamo anche le cose non belle che ci stanno accadendo, a un certo punto le accettiamo, le viviamo, cioè le attraversiamo, diciamo attraversiamo il dolore, attraversiamo l'ombra, attraversiamo il buio, a un certo punto ci rendiamo conto che tutto questo era necessario per farci vedere anche la luce che c'era già. Il matto ci rappresenta anche, appunto, dicevo, la velocità, ma anche un po' l'inesplorato. Quindi, secondo me, la soluzione di quello a cui tu pensi, quindi soluzione d'amore o soluzione con persone, con familiari, questa soluzione arriverà in un modo davvero fantasioso, perché l'universo ha sempre molta più fantasia di noi. Andiamo avanti. Vedi, qui c'è la porta magica, quindi tu stai proprio per aprire una porta. Questo è anche un asso di bastoni, quindi qui sono notizie belle comunque che arrivano. Ma io vedo proprio che il tuo momento difficile, cioè il momento in cui tu, qui, questa carta ci fa vedere che tu non, diciamo, non credevi tanto prima alla soluzione delle cose ed eri un po' arrabbiata. Io vedo che invece questa rabbia si trasforma. Si trasforma perché tu mettiti le mani sul cuore, se non l'hai già fatto, e ascolta l'energia proprio che esce dal cuore. Qui c'è una porta che si apre, come se davvero tu dicessi apriti sesamo, eh? Andiamo. E guarda, questa sei proprio tu che starai così bene, che potrai allargire doni o conoscenza o semplicemente la tua presenza o farei qualcosa di bello per gli altri. Potrebbe essere la tua famiglia, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, eh? Andiamo avanti. E qui potrebbe essere l'arrivo. Ricordiamoci che la primissima carta io l'ho interpretata come la tua energia, perché sono comunque energie, ma potrebbe essere anche questo re di oro che a un certo punto arriva nella tua vita un po' a sorpresa. Tu non te lo aspetti, eh? Vedi, qui entra una persona da questa porta e viene addirittura applaudito. Potresti anche essere tu, quindi che magari ti sentivi un po' tagliato fuori da una certa situazione lavorativa, familiare, e invece poi ti accorgi che tu sei completamente accolto da queste persone o da questa situazione. Però, secondo me, potrebbe anche significare questa forza interiore che tiri fuori, tu apri questa porta e da questa porta arriva proprio la persona che tu aspetti e tu che ascolti sai chi è la persona d'amore, di famiglia, di quello che tu desideri. Perché pensi, ecco, secondo me, in passato tu pensavi che questa situazione, questa carta l'abbino molto bene a qui, perché nella croce celtica questo rappresenta il passato, per quello che io ti dicevo, avevi dei pensieri non tanto belli sulla risoluzione della cosa. Ecco, qui, l'unico rallentamento a questa velocità, a queste notizie che può avvenire per alcuni di voi, ma non per tutti, è che non ascoltandoti profondamente potresti non sapere dove andare. Qui è rappresentato una persona che va lentamente, ci arriva, perché è una persona cieca ma ha il bastone, non è che la persona perché è cieca non arrivi, anzi, potrebbe arrivare semplicemente più lentamente alla situazione perché è molto cauto, però potrebbe anche rappresentare che non vede bene dove devi andare e allora qui io aggiungo delle carte. Vediamo un po' che cos'è che non vedi in questo momento per sbloccare una situazione a cui tu tieni molto. Togliamo queste carte. Cos'è che non vedi? Ma che è già lì intorno a te? Cos'è che non vedi? Gli scambi. E proprio riguarda proprio una situazione, mi rendo conto, proprio riguarda una situazione particolare questa questa stesa, quindi situazione d'amore, di famiglia, lo sapete voi, però qui riguarda proprio uno scambio. È come se tu volessi comunicare con qualcuno e non riesci a comunicare profondamente come tu vorresti. Allora, vediamo ancora, anzi, li mettiamo qui perché l'abbiamo chiesta per questo, però guarda, se tu, mi richiamo un po' anche il matto qui, se tu vivi questo momento con lo spirito d'avventura, ricordati che ti si apre questa porta, vedi che già qui vuoi aprire questa porta e qui questo matto è disegnato con una chiave, quindi ricordati che se tu ti ascolti profondamente, qui c'è una chiave per te, è qualcosa che non stai vedendo adesso, ma dovresti affrontare questo momento facile o difficile che stai vivendo con questo spirito d'avventura come il felino, come il gatto qui, cioè con curiosità in poche parole, perché veramente qui c'è un mistero, io sento che c'è un mistero da svelare, ma questo mistero è fortunato, vediamo un po' queste carte che cosa mi dicono, c'è un mistero che magari fa parte già dei tuoi desideri, ma il modo di realizzarlo è misterioso in questo momento, vediamo che cosa ci dicono queste carte, la sacerdotessa, vedi che tu hai un grande potere, è la sacerdotessa naturalmente la papessa, però tu hai un grande potere, hai anche tante erbe magiche qui e devi semplicemente ricordarti di averlo, non devi fare grossi sforzi, perché tu ce l'hai già, hai la sapienza, hai tante cose che sai, solo che quando ti arrabbi un po', quando non vedi realizzate le tue cose, ti dimentichi di avere questa conoscenza, questo potere, perché l'universo in realtà, se vogliamo vedere, io ho detto qui qualcuno può realizzare più lentamente perché non vede, ma non ha importanza vedere, le cose accadono a un certo punto, perché l'universo in realtà, ricordiamoci, che non ha bisogno di tempo per realizzare ciò che desideri, perché ogni ritardo che accade in quella cosa è dovuto al fatto che non hai creduto abbastanza, solo quello, perché se tu, se noi, voglio dire, se noi credessimo al cento per cento a qualcosa, la cosa accade immediatamente, poi un'altra cosa importante è sapere e sentire nel tuo cuore di avere già ciò che vuoi, allora tu l'indugio che hai è che vorresti già sapere cosa accadrà, invece qui ti dicono tu vivi con curiosità che c'è un mistero da svelare che lo scoprirai vivendo, andiamo avanti, in poche parole sintonizzati sulla frequenza di ciò che desideri di più in questo momento e vedrai che apparirà, aspetti una persona, apparirà, aspetti che questa situazione cambi, apparirà, accadrà, vediamo qui, e qui ti dice la luna, la luna in questo caso io la vedo anche come è disegnata qui, come la parte del sogno, del tuo sogno da realizzare, infatti qui vediamo proprio una bambina, una ragazzina che guarda la luna e si aspetta di, è come se, più che si aspetta, è come se chiedesse alla luna aiutami a realizzare questo sogno e io ti vedo proprio così, ti vedo come una persona che chiede sempre come faccio, perché non si realizza questo sogno, ma in realtà queste carte ti stanno dicendo guarda che basta che tu vivi la vita naturalmente gioiosamente, ma senza troppo pensare come accadrà, non ci pensare, tu focalizzati sul tuo sogno e abbi fede, più hai fede più si realizza diciamo velocemente, perché ricordati sempre che la serenità, la gioia attrae come un magnete ciò che tu desideri, è come se fosse una scorciatoia la gioia, no? Quindi sogna, ma sogna contenta, non sogna con ansia, sogna perché, non metterci mai perché non arriva, cancella, fai un reset, vedrai che se sogni con gioia arriverà, perché il vero significato della nostra vita è anche sentirci felici adesso, di cosa? Di quello che c'è, di esserci, di essere qui. Allora, qui c'è una bellissima casa, qualcuno ha pensato a una casa, qualcuno ha pensato a una relazione, andare a vivere con qualcuno, quindi qualcuno ha pensato che vuole sentirsi protetto all'interno della sua casa, qualcuno ha pensato che vuole un lavoro, la casa può rappresentare anche l'edificazione di un lavoro, un lavoro nuovo, una propria attività, quindi qui fa parte del tuo sogno, qui ti dice perché non dovrebbe accadere questa cosa, no? È naturale che se tu stai bene o cerchi e ti sforzi di stare bene più la cosa accade ma tutto diventa abbondante e non necessariamente del denaro, quindi tu hai bisogno proprio di lasciarti andare, soprattutto perché ci sarà una sorpresa, un mistero come abbiamo qui visto. Allora, a questo punto, visto che la stesa è stata generale fino adesso io vado a prendermi questa prima carta ed essendo la prima carta per me molto importante di questo re e voglio metterci su delle carte e vedere un po' su questo re. Vediamo, vediamo di metterci dei tarocchi. lasciamoli parlare vediamo questo re perché qui c'è se vogliamo vedere sia l'incontro che tu desideri sia la persona sia tu che non sai perché ti sembra impossibile che accada quello che tu desideri ma sappi che invece è già per strada per apparire e realizzarsi nella tua vita e guarda come sei contenta qui sei proprio felice contenta questo tre di coppe ti fa vedere che sei soddisfatta quindi soprattutto se hai pensato al tuo successo sarai soddisfatta se hai pensato all'amore sarai soddisfatta comunque sia questo re potrebbe essere amore o lavoro diamogli ancora un senso generale prima di andare a vedere perché qui le carte insistono come sapete sentono la vostra energia che la maggior parte di voi vuole l'amore quindi sentono la vostra energia e vogliono rispondervi sull'amore quindi io qui ci vedo un incontro d'amore però se tu vuoi puoi ancora interpretarlo come una risposta di lavoro di una persona che ti apprezza molto allora questo re quindi ti vede come come ti vede questa è volata la leggiamo senz'altro ti vede come una persona molto in gamba ti vede aperta vedi che sei qui con le braccia aperte mentre prima probabilmente non ti vedeva così ti vede fiera di te stessa ti vede gioiosa ti vede piena di energia e potrebbe anche essere che questa persona abbia un tesoro forse è questo il famoso mistero di cui parlavano prima che decide di dare a questa persona meritevole quindi potrebbe essere davvero un re che ha questo tesoro che potrebbe essere il tesoro del suo amore ma potrebbe essere anche il tesoro della sua vita della sua casa quindi che decida di farti un regalo e fare anche un regalo a se stesso e che apra questo forziere e dica finalmente ho trovato la persona a cui donare questa cosa così importante per ognuno di voi questo dono potrà essere diverso potrà essere sia un dono materiale di abbondanza ma potrebbe anche essere il dono dell'amore d'oro dell'amore illuminato dell'amore perché qui l'oro rappresenta sempre comunque anche qualcosa di sacro qualcosa di importante quindi è come se dicesse questa persona così positiva così aperta è la persona giusta vediamo questa carta che era uscita e sì perché ti considera quindi una persona che sa costruire tu sei per questa persona con lei che saprebbe secondo come ti vede questa persona far fruttare i suoi denari oppure far fruttare il suo amore vedete che possiamo interpretarla in entrambi i modi quando soprattutto facciamo le stese generali quindi non specifiche sull'amore anche se poi come vedete le carte parlano anche d'amore però questa situazione potrebbe essere anche qualcuno che ti apprezza moltissimo e che forse prima non ti apprezzava ecco e che o forse prima eri tu che non ti facevi apprezzare diciamola più giusta perché quando qualcuno non ci apprezza non è perché noi non vogliamo è perché noi non gli facciamo vedere il nostro valore quindi questa persona dice finalmente posso aprire il mio forziere per donarlo a te che sei una persona grandemente meritevole vediamo vediamo un po' tu tu ti sei lasciata un po' trascinare questo sei di spade fa proprio vedere che tu ti sei lasciata molto andare cioè non hai tirato fuori un po' quello che ci ha detto la stesa fino adesso il tuo vero potere però sei poi una persona che sa costruire quindi questo re non ti vede nel modo sbagliato è assolutamente e tu come avevamo già visto tirerai fuori la tua forza e questa volta farai una scelta perché il carro ci parla sì di tempo veloce come anche il matto ma ci parla anche di una scelta tra il bianco e il nero questi due cavalli vanno in due direzioni e solitamente i cavalli del carro vanno in due direzioni ti fanno vedere che si accordano questi cavalli perché in questo caso originariamente i cavalli del carro avevano due direzioni in questo caso sono disegnati in accordo in armonia come se i due cavalli avessero trovato la loro direzione quindi la loro forza interiore e quindi questo mi fa capire che tu perché adesso stavamo guardando te a un certo punto trovi l'armonia nel senso che invece di essere pessimista e di dire figurati se questa cosa accade proprio a me invece dentro di te c'è un'armonia anche di maschile femminile bianco e nero ying e yang il tao che ti fa proprio capire che tu adesso sai la direzione quindi tu ti sentirai scelta da questa persona ti sentirai scelta per il tuo valore e tu hai voglia di dimostrare il tuo valore quindi è come se non fossi più quella che si fa trascinare dagli eventi ma quella che sceglie gli eventi e poi guarda questa sei sempre tu perché volevo prendere anche tre carte per te giustamente visto che abbiamo guardato questo re che cosa come ti vede e cosa vuole qui abbiamo un dieci di coppe che abbiamo l'apoteosi diciamo dell'incontro della soddisfazione di due persone che finalmente si trovano o si sono trovate per la prima volta che mi rappresenta un po' anche questo quindi grande stima da parte di questa persona verso di te che prima probabilmente non aveva questa persona perché tu non gliela facevi vedere questa stima non l'avevi tu per te stessa quindi questa persona grande stima verso di te ammira la tua capacità sia lavorativa sia di costruire e sente proprio che sei la persona giusta la persona giusta per mettere su casa insieme o la persona giusta volendo interpretarla come lavoro per offrirgli quel fantastico lavoro che tu aspettavi da tempo quindi diamogli tutte e due le valenze per quanto riguarda l'amore io vedo che questa persona ti può conoscere o ti deve ancora conoscere questo lo sapete voi ma senz'altro questa persona sarà contentissima di offrirti veramente tanto ti offre tutto quello che ha questa persona quindi può essere amore può essere lavoro ti offre davvero tutto e tu sarai fiera di riceverlo vediamo a questo punto che cosa ti dice io devo vedere cosa ti dice questa persona vediamo un po' allora tagliamo e vediamo cosa ti dice questa persona è che sente quando vi parlavo prima dello spazio del cuore sente proprio che tu sei diversa dalle persone che conosce perché sente che sei una persona pura lo spazio del cuore quindi sei una persona di cui si può fidare sia lavorativamente sia in amore dipende da quello che pensate voi io sto canalizzando le energie qui dice la vita è come se ti dicesse questa persona traduco quello che ti vorrebbe dire la vita può avere nubi bianche grigie azzure fatte di momenti e ogni momento ha un po' il suo mondo tu però è come se avessi una forma un po' diversa che viene fuori dalle altre nuvole che mi colpisce perché io vedo la tua evoluzione vedo la tua purezza e sento che tu hai un potere nascosto quindi è molto probabile che questa persona veda anche il tuo grande potenziale è il vostro anche potenziale guarda davvero qui secondo me questa cosa che sta per accadere è unica perché come vi dicevo c'era il mistero è come se si aprisse uno squarcio tutta questa porta che riesci a aprire te come se si aprisse qualcosa che può succedere solo adesso qualcosa che è giusto in questo momento quindi mi raccomando sentirai un'energia fortissima quando si aprirà questa porta perché qui c'è una grande ascesa questa persona è come se arrivasse tu apri una porta naturalmente energetica del tuo benessere della tua fiducia questa persona appare accadono le cose che l'ha stesa visto o per alcuni di voi accadranno come voi ritenete meglio possano accadere però accadranno si sveleranno dei misteri e tutto questo accade è come se la porta si aprisse e poi si chiudesse perché sono quei momenti di fortuna quest'onda che accade quei momenti di fortuna che accadono poi si richiudono e poi riaccadranno più avanti nel tempo non si sa quando qui dice che praticamente questa persona ti dice ora io che ti ho trovato che ho trovato la persona giusta sento che possiamo avere questa ascesa insieme possiamo avere l'ascesa vi ripeto può essere un'ascesa d'amore o un'ascesa di lavoro comunque è come se dicesse posso avere questa ascesa piano dopo piano vedete qui è come se ci fossero dei piani che vanno sempre più verso la luce e così ci sentiremo sempre più leggeri sempre più lontani dalle dinamiche del mondo quindi direi che ti dice delle cose molto belle e importanti allora visto che questa stesa è particolarmente elevata perché l'ascesa stessa ci parla di questo non posso altro che prendere le carte del divino per concludere questa unione questo incontro di queste due persone felici di incontrarsi felici di ascendere felici di costruire che si ammirano che si stimano nonostante la vita come ci diceva prima sia fatta di nuvoli bianche nere grigie quindi mi dà l'idea che questa coppia sappia proprio superare le difficoltà vediamo il divino cosa dice a questa coppia o di lavoro o d'amore che l'importante come avevamo visto è l'autostima ricordi che questa persona aveva tanta stima di te perché tu avevi stima di te quindi aveva proprio grande stima perché in qualche modo hai tirato fuori la tua forza quindi perché esce l'autostima perché l'autostima non è solo dedicata alla personalità ma è anche la connessione con la nostra sapienza interiore se tu ti connetti con la tua sapienza interiore tu senti allargarti ti senti più espansa ti senti veramente sostenuto dall'energia divina quindi l'angelo Hael Ha Hael ti dice che Dio è in tre persone e questo angelo ti protegge dalle parole ingannevoli degli altri ti ricordi che all'inizio della stesa tu ce l'avevi un po' con qualcuno ecco è come se tu a un certo punto non dessi più energia a questa cosa vediamo ancora cosa ti dice senza tempo vi ricordate che prima io vi dicevo l'universo non ha bisogno del tempo è solo una questione di fede di fiducia le cose appaiono quindi senza tempo energia di bontà e salute allora qui l'angelo Nanael dice che Dio protegge dall'ignoranza dalle cose che non si sanno qui abbiamo i numeri 41 15 53 e 101 secondo me sono belli da vedere così non sommati quando mi viene da darveli è perché sento che vanno dati così quindi carissimi e carissime come sempre io vi ringrazio dell'ascolto e vi mando un grande namaste a tutti ciao ciao